Siamo in collegamento da Palazzo Lombardia dal piano 39 con l'assessore a regione della sicurezza Riccardo Decorato. Con l'assessore dal 39esimo piano, da questo straordinario belvedere di Palazzo Lombardia, commentiamo l'ultima operazione, Operazione Smart 2022 che ha consentito l'identificazione di oltre 2.400 soggetti ma anche tanti altri risultati grazie allo straordinario supporto anche della Polizia Locale. Dati, cifre certamente interessanti, assessore Operazione Smart con grandi successi. Sì, queste operazioni vengono fatte grazie a regione Lombardia che d'accordo con i sindaci e con i comandanti delle Polizie Locali abbiamo interessato circa 50 comuni dove sono state fatte delle presenze di sera e di notte di postazioni di Polizia Locale che sono servite a dare ai cittadini la presenza attraverso queste auto della Polizia Locale che hanno fermato centinaia di persone chi in stato di ebrezza, chi con sostanze stupefacenti e sono stati a Milano, c'è stato non solo in Piazza Duca d'Aosta ma nei 9 municipi ci sono state altrettante postazioni di Polizia Locale che hanno dato il segnale di una presenza forte degli agenti delle Polizie Locali della Lombardia. Assessore, nella sua nota ha evidenziato un aspetto abbastanza contraddittorio. A Milano ci sono stati, questo fine settimana, gli stati generali della Cannabis mentre la Polizia Locale ha continuato a contrastare spaccio e delinquenza, spaccio soprattutto di droghe. Sì, esatto, mentre ci sono stati l'8 e il 9, ci sono stati gli stati generali della Cannabis in Piazza Baiamonti la Polizia Locale ha fermato una persona che era in possesso di 50 grammi di hashish ed ha proceduto al sequestro di questo. Questo è il segnale che evidentemente le Polizie, Polizia Locale compresa, continuano nell'operazione di sequestro di queste sostanze. Chiudiamo ricordando anche questo aspetto, lei Assessore ha evidenziato più volte questa sinergia delle operazioni smart finanziate, ricordiamo, da Regione Lombardia, sinergia tra Forza dell'Ordine, Polizia Carabinieri, a volte anche Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito, sinergia fondamentale per questo tipo di operazioni. Sono stati usati uomini dell'Esercito in diversi punti della città e della provincia. Questi uomini sono serviti per contrastare perché dove si vedono le divise è difficile che ci siano malintenzionati, delinquenti ed altro. Basta pensare che nel 2009 con l'operazione Strade Sicure nella città di Milano diminuirono i reati del 40% nel 2010 e questo fa capire che la deterrenza è fondamentale. Bene, ringraziamo l'Assessore regionale alla sicurezza di Regione Lombardia, appunto Riccardo Decorato e vi diamo appuntamento al prossimo collegamento su Lombardia Notizie Online. Un cordiale saluto a tutti.